Buonasera, Antonio Caravella, Asia-Gizia Stampa Italia, Tifo Grifo. Allora, un pareggio sicuramente da prendere con ottimismo, serve per nuova classifica, anche a fronte dei risultati delle altre squadre che precedono il Perugia. E poi le chiedo, 11 ammuniti con dodicesima ammunizione è la sua, cartellino giallo. Ci può stare? Mi sono lì promesso di non parlare degli ardi, quindi andiamo avanti. Allora, parliamo allora della prestazione. La prestazione, sono molto contento, la squadra ha fatto un'ottima partita. Per come eravamo abbiamo superato questa partita che eravamo in criticità. Come io pensavo che la squadra facesse, l'ho detto ieri, le assenze devono rappresentare un'opportunità per i tanti giocatori che stasera hanno dato il loro contributo, che magari non tutti sono stati schierati sempre con continuità. Quindi sono contento, si sono fatti trovare pronti. Abbiamo schierato un sacco di giovani che hanno dato appunto anche la... la... no, impressione, la conferma che sui quali nei momenti di bisogno ci si può anche contare, no? E questo mi riempie di soddisfazione. E vorrei che sui giovani ci credeva molto. Esatto, sì, sì, sono contento. Esatto, il debutto di Seghetti. Ma non sono segreti, gli annoni, i bulichi, i cancellieri sono state scelte che secondo me hanno pagato. In un momento di difficoltà loro portano vivacità, portano entusiasmo. Se no si rischia di appiattire. Poi a me, come sapete, piace che la settimana lavorativa sia sempre molto elevata come intensità. Quindi quando uno apre queste prospettive a tutti, gli allenamenti poi ci si guadagna perché si alza il livello. Perché tutti possono giocare e quando tutti possono giocare il livello dell'allenamento sale. E sono contento, insomma, mi ha fatto piacere questo. Antonio Ferroni, messaggero. Mister, non so se siete d'accordo con me sul fatto che l'insidia più grossa di questa partita probabilmente era presentata dal secondo tempo più che dal primo. Il primo, Perugia, ha giocato, penso, come voleva lei, tutto e per tutto. Il secondo tempo, considerando la situazione d'emergenza, si rischiava magari anche di andare un po'. Invece ho visto una squadra, secondo me, in pochi giorni che ha, non so se me lo conferma, ha un po' capito la lezione di Pisa. No, però se non parla... Ascolta un attimo. No, no, ma ho lezioni. Non guardavo sempre di dire, perché intanto Pisa è vinto a Parma. Pisa è un squadrone, ragazzi. Assolutamente. Quindi è la lezione. E noi si è perso a Pisa perché comunque abbiamo affrontato una squadra forte. Poi, stasera pure abbiamo affrontato una squadra forte, secondo me. Al Como anche la squadra. Al Como, una squadra molto forte. Per questo dico io, Perugia, un secondo tempo non ha rischiato mai. No, noi siamo andati forte, perché quando l'intensità per noi è il ritmo alto, è un'arma. Il primo tempo ci hanno un po' controbattuto, poi il secondo tempo siamo venuti fuori noi. Questo rispondo alla prima domanda. Significa che comunque stiamo recuperando nei soggetti che magari sono stati fuori, tipo Olivieri, insomma, no? La migliore Mados, Olivieri. Mados stasera ha fatto un'ora e l'ha fatta a un livello, secondo me, molto più alto rispetto ad Ascoli, quando aveva fatto la prima partita, che significa che sta riacquistando la migliore condizione. Olivieri è rientrato e intanto è rientrato, poi ha tenuto il campo fino al trentesimo, quindi ecco, adesso piano piano anche lui migliorerà. E questi sono tutti i giocatori che a noi servono. Contemporaneamente, magari ecco, si è girato un po', perché io ho schierato sei giocatori che a Pisa non avevano giocato, perché mi interessava che avessimo tenuto un ritmo alto, soprattutto all'inizio, perché chi se ne dica come giochiamo noi, tre giorni non tutti recuperano le fatiche che spendiamo. E io secondo me ho una squadra che corre, a me interessa che chi va in campo corre. Questo a me mi gratifica, perché ecco, anche se faccio dei cambiamenti in squadra, la squadra risponde, perché i ragazzi comunque sono affidabili. E insomma ecco, secondo tempo, siamo andati meglio, siamo andati bene, siamo cresciuti, perché comunque abbiamo una capacità di mantenere il ritmo per 90 minuti. Giustamente, come dice lei, c'erano delle incognite per il motivo che ho spiegato adesso, perché Olivieri, Matos, Vulikic, Iannoni, Capezzi stesso, Struna, sono giocatori che mai sono stati un po' inattivi, però hanno risposto alla grande. Poi chiaro, nei minuti finali qualcuno è venuto i crampi, ho cambiato, però ecco, si è tenuto un buon ritmo e anche i ragazzini sono andati bene. Gli ultimi 15-16 minuti hanno fatti bene, quindi la squadra ha mantenuto alto il ritmo e questa è la cosa più positiva di questa sera, oltre al fatto che, secondo me, quando non si può vincere, è meglio pareggiare che perdere. Il pareggio di oggi ci ha dato anche un miglioramento in classifica, perché le rette concorrenti alcune hanno perso, quindi si può sicuramente annotare come una serata positiva. Visto, c'è stato a un certo punto che c'è stata la paura che agli infortunati ci aggiungessero anche qualche altro infortunato, ho visto le condizioni di Santoro e Struna, poi infortunatamente, però ecco, Santoro ti rassicura che... No, non lo so, vediamo domani, perché lui ha preso una brutta botta alla caviglia, sai che quando prendi le conduzioni a caldo ci vai sopra, è da capire, magari se domani la caviglia si gonfia e magari la funzionalità dell'altro non è... Insomma, ecco, queste cose qui si avvertono a freddo, il giorno dopo, subito, comunque la botta alla presa. Speriamo che non ci sia niente di che, insomma, ecco. Le faccio la neumana che ho fatto all'allenatore del Comalungo. Lei c'è stato un momento della gara in cui hai creduto che potesse portare a termine il risultato pieno? Sì, come no, quando abbiamo cominciato a sediarli, abbiamo dato continuità alla manovra offensiva, nel secondo tempo soprattutto, un attimo, nel primo tempo noi abbiamo sbagliato un'occasione costruosa, un calcio d'angolo, un metro alla porta, poi l'occasione lì che c'è stata l'ammunizione di Matos, non ho capito perché stanno lì da Matos, sono occasionissime quelle... Quella di Luperini. Nel computo generale, secondo me, ai punti avremmo vinto noi, l'occasione sta ai nostri. L'episodio del rigore che... Non so come... Vabbè, andiamo avanti. Quindi tutto è un insieme di episodi che comunque noi cataloghiamo come meriti nella valutazione del pareggio, cioè tutto più a favore nostro che a favore loro. Quindi ci teniamo il punto, per la prestazione è stata buona, e vado con pazienza. Altre volte andrà meglio. La prestazione è buona, mister, in previsione anche della gara, una squadra attualmente molto... Sul tiro è una squadra forte, si gioca la promozione diretta e sul tiro non è. Perché all'inizio era una sorpresa, adesso non lo è più. Perché quando poche giornate alla fine sei lì e hai due o tre punti alla promozione diretta, vuol dire che sei forte. Poi avranno il morale a mille, oggi hanno vinto a Benevento, è una partita difficile da vincere fuori casa. E poi la continuità di risultati è, come si dice, è la certificazione del valore di una squadra. Però, come ho sempre detto, adesso pensiamo a noi, domani vediamo un attimino come siamo usciti da questa partita, cerchiamo di capire le energie e i giocatori che riusciamo a recuperare e quante energie hanno speso, perché dopo questo si comprende magari domani o dopodomani. Oggi si fa fatica. Sì, mister. Enrico Fanelli per Udza Today e Tifo Grifo, le chiedo appunto se c'è qualche giocatore tipo Di Serio che può essere della partita domenica, insomma. Noi ce l'auguriamo che Di Serio possa tornare a disposizione. Angella non ancora. Squalificati. Squalificati Casasola e Quan, perché pazzi ancora una giornata, quindi un po' l'orizzonte si sta rischiarando. Di Serio Casasola e Quan possono un po' farci girare qualcuno che magari potrebbe essere stanco.